Leon Haida del Vallese prodotta da Chez du Baron questo vitigno che io amo e che spero ci sarà sempre di più in Svizzera in futuro e come dice l'etichetta esotico ed esuberante esotico sì perché al naso si sentono questi bellissimi aromi di frutti esotici si sente un po' il mango la papaya addirittura lì ci poi si sentono gli agrumi per cui una bella freschezza e della complessità esuberante dove in bocca in bocca perché si sente il calore delle temperature ballesane sappiamo che anche se nella regione alpina è molto calda e comunque un vino denso ricco strutturato dunque un vino intenso che possiamo abbinare alla cucina di pesce di lago o di mare ma anche con delle carni bianche ovviamente se pensiamo ai dei volati del pollame magari fatto allo spiedo